Ciao ragazzi, bentornati nel canale YouTube, io sono Tommaso Codolo e questo è DaVinci Resolve 14. Oggi parliamo di uno dei problemi che più si riscontra quando si utilizza un computer con DaVinci Resolve, ovvero la scattosità dei file video. Dipende sempre e comunque da che tipologia di computer stiamo utilizzando e da quale GPU è all'interno del nostro computer. Ma prima di iniziare diamo un'occhiata alle caratteristiche di questo computer in particolare. È un Mac, un MacBook Pro, un 13 pollici del 2017, un processore da 2,3 GHz, un Intel Core i5, 8 GB di RAM e una scheda grafica che è questa qui. Già questo tipo di computer lavora decisamente bene, vi faccio vedere la fluidità di un file qualsiasi. Anche solo dandogli del play, quindi non ho problemi di scattosità effettivamente. E stiamo parlando di un file che è un 1920x1080 a 25 frame al secondo in formato H.264 in questo caso. Tutti i file che vado a scrollare, vedete, non hanno problemi di scattosità. Stiamo sempre parlando di file di 1920x1080, quindi dei full HD, a 25 frame al secondo. Ma vi faccio vedere un file che invece è sempre H.264, ma vedete che è un 4K a 50 frame al secondo, quindi sarà molto più pesante. Provo a dargli play. E vedete che comunque è veramente scattoso e inutilizzabile. Avremo dei serissimi problemi di editing nell'utilizzo. Se andate a scatti e se state guardando questo video è perché il vostro computer vi va a scatti e volete trovare una soluzione, qui troverete la vostra soluzione. Dovremmo andare a degradare momentaneamente il file stesso all'interno della nostra timeline. Quindi prima di tutto dobbiamo decidere quanto andare a degradarlo. Andiamo sul nostro project settings, qui in basso a destra, e andiamo all'interno del master settings a cercare gli optimized media render cache. Quindi andremo ad ottimizzare i nostri file per l'utilizzo di questo computer in particolar modo. Io sto utilizzando un MacBook Pro, vi dicevo, quindi continuerò a mantenere come il formato di ottimizzazione dei media ProRes 422HQ. Se voi foste con Windows potreste utilizzare tranquillamente o un uncompressed oppure un DNX HRSQ, che è questo qui che vedete qui. Quindi ne ho provati un po', mi sembrano i più morbidi come codec. Optimized Media Resolution è qui che faremo la differenza. Perché faremo la differenza? Perché potremmo decidere se mantenere il file in formato originale, dimezzarlo, renderlo a un quarto, a un ottavo, un sedicesimo, oppure scegliere automaticamente che andrei ad eliminare. Io partirei con un quarto. Avete visto che il file andava molto a scatti, quindi in questo caso vado a portarlo appunto a un quarto e gli do Save. Non ho ancora modificato nulla, è solo l'impostazione del salvataggio che andremo a fare, quindi andremo ad ottimizzare il nostro file. Siamo sul tab Media, nella Media Pool, andremo a pigiare con il pulsante destro sulla nostra clip e andremo a richiedergli di generare un file ottimizzato. Qui in basso vedete Generate Optimized Media. Vado a cliccare, in questo momento andremo ad aspettare l'ottimizzazione del file. Più grandi saranno i file ovviamente più tempo ci vorrà, più file avremo da ottimizzare ovviamente più tempo ci vorrà. Io solitamente questa cosa la faccio durante le pause, i tempi morti. Lascio lì il computer che generi i file ottimizzati in modo da poter poi andare a lavorarli, magari anche la notte, se ho un progetto molto molto grande. Vedete che per un file piccolino comunque non ci ha messo molto. Abbiamo già terminato e adesso vi faccio vedere la differenza con un file ottimizzato che non va più a scatti. Ecco qui, quindi se io vado a pigiare Play vedete che il file non è più scattoso. Guardate la manica a vento come gira, guardate adesso l'arrivo dello zipliner come è molto più fluido. Non avremo più appunto problemi di scattosità all'interno della nostra timeline. Tant'è che se noi adesso andiamo a portare il nostro file 4k all'interno della nostra timeline potremo vederlo tranquillamente, fluido, senza nessun problema. Vado anche a mettervelo a schermo intero. Ecco qua Ok, vedete che comunque non è stato degradato in maniera eccessiva. Più andiamo a degradare il file più lo vedremo male. Se volessimo andare a vederlo invece normalmente come prima basterà andare a defleggare qui su playback Use Optimized Media if Available. E quindi guardate cosa succede, se io gli do il play adesso lui mi ritorna vedete a scatti e faccio molta più fatica nuovamente a vedere il nostro file. Se gli do di nuovo Use Optimized Media if Available invece lo avrò di nuovo fluido e morbido. Bene, è stato un tutorial velocissimo ma sono sicuro che è stato indispensabile per darvi una mano sul vostro editing con DaVinci Resolve. Non mi resta che salutarvi, rimanete sempre incollati al monitor e seguitemi su tutti i canali Facebook piuttosto che YouTube e anche qui su GoCamera. Ci vediamo con il prossimo video tutorial, un saluto a tutti quanti, buon editing a tutti. Ciao!